Il Policlinico di Bari capofila nel progetto sulla telemedicina. Si punta a creare una rete internazionale tra Puglia, Albania e Montenegro. Facilitare l'integrazione dei rifugiati con un accesso facilitato ai servizi. Nuovo protocollo firmato nel comune di Bari. Presentato il programma 2023 del Carnevale di Affricena nel Foggiano, tra i più belli della Puglia, il popolo dei coriandoli è pronto ad accogliere i turisti. Ben ritrovati con l'informazione di Antena Sud. Apriamo la nostra pagina dedicata alle province di Bari, Labatte e Foggia. Partiamo con la cronaca. Stava lavorando in un box interrato in via Giulio Petroni a Bari quando un uomo, un operaio per cause ancora in corso di accertamento, è morto in seguito all'esplosione di una bombola. Il primo incidente del lavoro del 2023 nel capoluogo pugliese. Sentiamo i dettagli. Stava lavorando in un garage interrato di via Giulio Petroni all'altezza dell'hotel Excelsior di Bari quando per cause ancora da accertare una bombola sarebbe esplosa facendo in modo che una valvola lo colpisse in faccia. L'impatto è stato talmente violento da causargli la caduta dalla scala sulla quale stava lavorando e di conseguenza la morte. Ancora un incidente sul lavoro in Puglia, il primo in questo 2023 nel capoluogo pugliese. Un operaio classe 1944 pare fosse insieme alla presunta proprietaria del box quando è accaduto l'incidente. Il boato è stato sentito anche ai piani alti della palazzina che sovraste il garage. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della scientifica della questura del capoluogo e la polizia locale, oltre ai vigili del fuoco che hanno subito messo in sicurezza la zona. All'esterno del box privato i reperti che serviranno agli inquirenti a far luce su quanto accaduto. Repertato anche il quadro elettrico del box, la donna sarebbe stata già ascoltata dagli investigatori che adesso devono cercare di ricostruire quanto accaduto. Ma soprattutto ora si punterà a capire se le condizioni di sicurezza sul lavoro erano state rispettate durante l'attività. Come mai l'utilizzo della bombola era conforme alle normative o era danneggiata? Su questo indagano gli agenti della questura di Bari. Intanto i sindacati invocano ancora una volta più attenzione sui luoghi di lavoro. Nel 2022 infatti sono stati 51 i morti, di cui 10 solo nell'area metropolitana del capoluogo. Ancora cronaca, la mafia foggiana sparò al boss e al suo nipotino è stato notificato l'arresto. Il GIP del Tribunale di Bari, su richieste della DDA, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 42enne Giuseppe Albanese, attualmente detenuto in regime di 41 bis, ritenuto il responsabile del tentato omicidio di matrice mafiosa del presunto capo clan foggiano Roberto Sinesi, compiuto il 6 settembre del 2016 nel capoluogo Dauno. L'ordinanza è stata notificata dai carabinieri. Nel momento dell'agguato Sinesi era con sua figlia e sua nipote di 4 anni. Entrambi rimasero feriti. Albanese è accusato di tentato omicidio plurimo e pluriaggravato dal metodo mafioso al fine di agevolare la compagine criminale del clan Moretti Pellegrino Lanza, porto illegale di armi da fuoco anche da guerra e ricettazione. Nell'agguato Roberto Sinesi e il bambino furono feriti da numerosi colpi d'arma, sparati con un fucile d'assalto Kalashnikov e una pistola semiautomatica calibro 9. Le indagini hanno accertato che Sinesi rispose al fuoco, sparando diversi colpi con un'arma che in quel momento portava illegalmente e per questo motivo il presunto capo clan è stato condannato a 5 anni di reclusione. Gli investigatori ritengono che il tentato omicidio di Sinesi è riconducibile alle composite pluriannali dinamiche delittuose delle batterie dell'associazione a delinquere di tipo mafioso, nota come società foggiana, riguardanti il controllo egemonico del territorio e delle relative attività illecite, principalmente nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti e delle attività estorsive. Ci colleghiamo in diretta con Bari dal Consiglio regionale pugliese perché torna la riunione della massima assemblea. In particolare si tratta della prima prova d'aula per il gruppo di azione dopo il vertice di maggioranza e c'è il pressing sugli incarichi. Ci aggiorna Antonio Bucci. Eccoci di nuovo insieme qui dal Palazzo del Consiglio regionale. La novità rispetto al collegamento di qualche minuto fa è che non si sta andando verso una mozione di sfiducia diretta ma si sta andando verso quella che politicamente è una scomunica durissima da parte del governatore che ha chiuso il suo intervento dicendo io non metterò più piede in quest'aula se da quella parte dell'emiciclo. Loro non si saranno spostati dalla parte opposta. Tecnicamente vuol dire una richiesta di rinvio di questo Consiglio che diversamente avrebbe aperto una questione anche interna all'opposizione, non fosse altro per un fatto di numeri, quell'intanto da garantire all'eventuale mozione di sfiducia ma anche poi di fatti alla questione di competenza sulla appartenenza dell'eventuale membro poi dell'opposizione. Diventa segretario d'aula in quota al centrodestra o al centrosinistra. Finora non si è sciolto il nodo, c'è stata una replica altrettanto dura di Fabiano Amati che ha contestato al governatore di fatti l'assenza perdurante in Consiglio se non per questa questione tutta politica, fermo restando che la legge vuole che il gruppo dell'ufficio di Presidenza sia inamovibile così come ha spiegato il Presidente della Commissione Bilancio. Nel suo caso sarà il regolamento interno a dirimere la questione entro giugno e dunque a giugno si andrà al rinnovo delle presidenze, delle commissioni. Al momento stiamo a testa a testa, al muro contro muro con Michele Emiliano che mette formalmente, ufficialmente, plasticamente fuori dalla maggioranza il gruppo di azione con il gruppo di azione che dice in mano. Non avete nessuno strumento ulteriore per farlo. Così è un dato tutto politico quindi salvo colpi di scena si chiuderà con il rinvio del Consiglio senza che si affronti poi la conta. Grazie. Continueremo a seguire i giochi della politica in Consiglio regionale pugliese. Adesso la sanità. Il Policlinico di Bari capofila nel progetto sulla telemedicina. Si punta a creare una rete internazionale tra Puglia, Albania e Montenegro. Promuovere la cooperazione tra soggetti pubblici e privati attraverso la creazione di una rete internazionale tra Puglia, Albania e Montenegro a partire dal trattamento in telemedicina di infarti, malattie neurodegenerative e croniche. Il Policlinico di Bari è capofila del progetto FASE che mira sviluppare il settore del e-health attraverso strumenti e procedure tecnologiche innovative applicate in Italia, Albania e Montenegro. Questo non solo migliorando i servizi sanitari pubblici e privati ma promuovendo anche l'innovazione delle imprese che operano nell'ambito delle tecnologie digitali e dei servizi sanitari. Le attività di FASE si concentrano sul trattamento efficace di infarti, malattie neurodegenerative e croniche, avendo come obiettivi principali quelli di creare un ecosistema di politiche standard, pratiche e strumenti, responsabilizzare i pazienti e i caregiver dell'area, incentivare la creazione e lo sviluppo del settore e-health promuovendo la cooperazione. Concretamente è già accaduto che le migliori risorse in ambito di assistenza attraverso le tecnologie informatiche sono state condivise con i paesi dell'altra sponda, quindi Albania e Montenegro stanno insieme a noi costruendo delle piattaforme che serviranno a questi paesi per replicare l'esperienza per esempio della telecardiologia ma anche al servizio delle cronicità che sono il tema di frontiera dei prossimi anni anche per la sanità italiana. Continuiamo con la sanità, in particolare con la medicina. Di pochi giorni fa la notizia del decesso di una ragazza morta in seguito al consumo di un tiramisù. La ragazza era intollerante al lattosio e questa notizia sicuramente ha sconvolto e preoccupa molto tutte le persone con intolleranze. Vogliamo allora provare a fornire le giuste rassicurazioni, i dettagli tecnici e clinici rispetto a questo problema, come rapportarsi in caso di situazioni di intolleranza. Lo facciamo con il presidente della società italiana di allergologia, asma e immunologia clinica, il professore Ostachio Nettis. Benvenuto. Buongiorno ai telespettatori. Tanto qui va fatta chiarezza. Un conto è parlare di intolleranza al lattosio e un conto è parlare di allergia al latte vaccino. Questa ragazza purtroppo era affetta da questa allergia al latte vaccino, che è un'allergia piuttosto rara, che può colpire sia i bambini sia gli adulti. È un'allergia che nei primi anni può colpire il bambino, ma può risolversi spontaneamente. Quando colpisce l'adulto tende a persistere per tutta la vita. È un'allergia che ha un quadro sintomatologico più vario, fino ad arrivare ai pochi casi di shock adafidattico, alcuni dei quali possono esitare con un decesso. Professore, prima di continuare, la interrompo per fornire un giusto chiarimento a chi ci segue. Ha fatto riferimento alla differenza tra allergia al latte vaccino e l'intolleranza al lattosio. In che cosa consistono queste differenze? Le allergie vere e proprie riguardano il sistema immunologico, che in alcuni casi può produrre dell'AGE, degli anticorpi specifici, contro le proteine del latte. Diverso è il discorso della intolleranza al lattosio. L'intolleranza al lattosio è una malattia piuttosto comune, che interessa bambini e adulti, ed è caratterizzata dal deficit di un enzima, l'enzima lattasi, che a livello intestinale, essendo insufficiente, non riesce a degradare il lattosio che è contenuto nel latte o nei derivati del latte. Se ne consegue che i sintomi sono piuttosto non da considerare gravi, ossia l'intolleranza al lattosio si manifesta con gonfiore addominale, dopo aver ingerito latte o derivati, gonfiore addominale, dolore addominale, nausea, diarrea, vomito. Quindi sono dei sintomi che peraltro possono essere in alcuni casi dose dipendenti, cioè dipendono dalla quantità di latte che viene ingerito. Quindi più gestibili, non con conseguenze fatali. Assolutamente, disturbi gastrointestinali. Diversa è l'allergia al latte di cui soffriva questa ragazza. L'allergia al latte è piuttosto, appunto, detto piuttosto rara e in alcuni casi purtroppo può portare al decesso. Quindi abbiamo rassicurato sicuramente tutti quelli che confondevano l'intolleranza al lattosio con l'allergia al latte. Professore, in questi rari casi che cosa occorre per far fronte a un incidente di questo tipo? Bene, innanzitutto chi è sofferente di un'allergia al latte, di una certa gravità, dovrebbe sempre stare attento alle etichette, alle etichette che riportano il nome degli ingredienti. Quindi stare attento se l'alimento in questione contiene appunto latte o tracce di latte. Tuttavia ci possono essere etichettature sbagliate o comunque non tutti gli alimenti possono portare l'etichettatura sull'alimento stesso. Quello che bisogna fare poi è stare attenti alle contaminazioni che avvengono quando viene trasportato il latte o frazione di latte in un altro cibo. Pensiamo ad esempio quando si taglia un formaggio e con lo stesso coltello si taglia un panino. E infine la cosa più importante è che questi soggetti devono portare sempre con sé l'adrenalina autoiniettabile. E' un farmaco che viene somministrato e deve essere somministrato immediatamente in caso di reazione grave dal paziente stesso. Viene somministrato con una puntura a livello del muscolo, della coscia e che è da considerarsi un vero e proprio salvavita. Infine professore, per quanto rara l'allergia al latte vaccino come si scopre? L'allergia al latte vaccino si scopre intanto tenendo conto dei sintomi. Dei sintomi che sono sintomi, ho detto variabili, dal prurito che si può avere al cavo orale, ai disturbi gastrointestinali, ma soprattutto sintomi cutanei, orticaria, angioedema dopo l'ingestione di latte, fino addirittura allo shock anafilattico. Dopodiché ci si sottopone a dei test specifici, test allergologici, che consistono soprattutto nei test cutanei, in cui si utilizzano estratti di latte, in questo caso per vedere se è un soggetto allergico. In seconda battuta test sierologici, cioè si fanno dei prelievi per evidenziare quegli anticorpi IgE specifici che vanno a legarsi alle proteine del latte, esami più particolari, come sempre attraverso un prelievo noi andiamo a vedere se ci sono anticorpi contro delle particolari componenti allergeniche del latte, questa è la diagnostica molecolare, però il gold standard rimane, ma si fa solo in pochissime situazioni, il test di provocazione orale in doppio cieco contro placebo, cioè si somministra il latte, chiaramente in casi selezionati, in casi molto particolari. Grazie, grazie allora per questi garimenti al professor Eustacchio Nettis, presidente della società italiana di allergologia asma immunologia clinica, grazie per essere stato con noi. Grazie a te. Continuiamo con il nostro telegiornale, continuiamo con la pagina dedicata alla sanità, andiamo nell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, dove è stato presentato il nuovo direttore della struttura complessa di chirurgia generale e indirizzo oncologico, il dottor Aurelio Costa. Giorno di presentazioni e volti nuovi all'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, ufficializzati e presentati al pubblico gli incarichi di Aurelio Costa e Gaetano Napoli. Il primo, 59enne, sarà il nuovo direttore di chirurgia generale e indirizzo oncologico. Il nostro obiettivo è quello di rapidamente mettere a sistema, a regime, un modello organizzativo che ci consenta, recuperando appunto anche l'attività sul territorio, che ci consenta di recuperare un'attività lavorativa per offrire una risposta adeguata, sanitaria, che possa rassicurare una popolazione che in questo momento può trovarsi in una situazione di disorientamento e che ha necessità di avere una certezza e una sicurezza. Il secondo, Napoli, come già detto, è stato invece nominato neodirettore di chirurgia toracica. L'unica novità sono io con il mio gruppo, con soprattutto la voglia di prendere in carico completamente i nostri pazienti, dal primo momento e seguirli fino alla fine, fino a quando speriamo di dargli la guarigione. Dobbiamo curarli, abbracciarli, risolvere i problemi psicologici e curarli bene con le tecniche più moderne. Bilancio finale affidato al DG delle donne. Noi abbiamo voluto dare un risalto quasi solenne della conclusione e dell'affidamento di due incarichi di direzione, di due reparti fondamentali strategici, la chirurgia toracica, la chirurgia generale di indirizzo oncologico, con l'inserimento di due professionisti di calibro nazionale, quindi già noti non soltanto per il profilo della ricerca e scientifico, ma anche per la casistica e per l'alta complessità chirurgica che va a connotare la loro esperienza professionale pregressa. Ancora sanità, ancora mancanza di fondi per la costruzione del nuovo ospedale della BAT che nascerà ad Andrea. Gli esponenti di Fratelli d'Italia, del Comune Federiciano e quelli di Canosa lamentano l'assenza dei vertici provinciali delle ASL durante un incontro che si è tenuto venerdì scorso dedicato proprio alla questione. Restano vive le polemiche sul futuro del nuovo ospedale della BAT che dovrebbe sorgere in territorio di Andrea. Nonostante i fondi precedentemente stanziati, pari a circa 138 milioni di euro, restano ancora le lacune finanziarie legate sia alla costruzione, che richiederebbe un ulteriore contributo di circa 150 milioni di euro, sia alla fase logistica con l'acquisto delle strumentazioni necessarie che farebbe lievitare la spesa complessiva. La protesta parte dagli esponenti di Fratelli d'Italia di Andrea e Canosa che lamentano l'assenza della direttrice generale dell'ASL della BAT, Tiziana Di Matteo, nell'incontro previsto lo scorso venerdì nel Comune Federiciano e convocato dal capogruppo del partito in regione Francesco Ventola e dagli onorevoli Mariangela Matera e Benedetto Fucci. Nella nota politica si fa riferimento alla necessità di accelerare le operazioni per reperire i fondi, un problema che va avanti da oltre due anni, nonostante le promesse di ottenere a stretto giro uno dei migliori ospedali del territorio, con circa 400 posti letto. L'auspicio di Fratelli d'Italia è che attraverso il contributo del governo Meloni al Fondo Sanitario Nazionale si possano avviare le pratiche per ottenere finanziamenti mancanti, con la richiesta di scavalcare ogni appartenenza politica e consegnare quanto prima una struttura medica alla BAT che colmi la precedente chiusura di quattro ospedali della provincia, una scelta risalente ad oltre un decennio fa, attesa per nuovi incontri con la stessa ASL e con l'assessore alla sanità Rocco Palese. C'è l'approvazione definitiva del piano sociale di zona per il territorio di Trani e Bisceglie per il 2022-2024. Si tratta del primo piano sociale in Puglia. Continuare ad investire sul capitale sociale è questa la sfida per i prossimi tre anni, intenzioni declinate in una manovra sociale da più di 18 milioni di euro. A fronte di risorse così cospicue trovano conferma i servizi divenuti strategici, oltre che fondamentali, per l'architettura del welfare locale e soprattutto si ha il potenziamento di alcune delle principali prestazioni offerte dall'utenza dei comuni di Trani e Bisceglie, quale il servizio di assistenza specialistica, l'assistenza domiciliare educativa e le azioni del pronto intervento sociale per il quale è destinato il budget più che raddoppiato. Oggi andiamo a San Ciro con la conferenza dei servizi un percorso lungo dieci mesi e siamo riusciti, dopo decine di tavoli di concertazione che abbiamo condiviso nei due comuni di Trani e Bisceglie, a redigere una buona programmazione per il 2022-2024 che porta in questo territorio circa 18 milioni di euro. È chiaro che c'è grande soddisfazione perché riusciamo ad essere tra gli ambiti assolutamente più solerti, più efficienti che raggiunge nella nostra regione un primato. Una programmazione davvero convolgente, consentitemi questo termine, perché siamo riusciti come comuni di Bisceglie e Trani a mettere insieme tante associazioni del terzo settore che hanno partecipato, ma anche semplici cittadini che hanno contribuito nel realizzare questo piano di zona. L'ambito di Trani e Bisceglie è il primo in Puglia a aggiungere la sua sottoscrizione, avendolo già approvato nei rispettivi consigli comunali. Facilitare l'integrazione dei rifugiati con un accesso facilitato ai servizi. C'è un nuovo protocollo firmato nel Comune di Bari. Favorire l'integrazione dei rifugiati promuovendo un accesso più semplice ed efficiente ai servizi disponibili sul territorio. Il Comune di Bari firma un protocollo d'intesa con l'UNHCR puntando all'avvio dello spazio comune, un modello di centro servizi pensato dall'Alto Commissariato per i Rifugiati è realizzato nel centro polifunzionale comunale Casa delle Culture grazie al supporto di Nection Aid per implementare i servizi già attivi. Oltre ad attività di sportello per facilitare la ricerca di alloggio e lavoro, lo spazio comune di Bari prevede, in aggiunta ai servizi già erogati dalla Casa delle Culture, attività di sensibilizzazione rivolte alla comunità locale e iniziative di partecipazione. Alcuni servizi sono forniti direttamente dalle istituzioni pubbliche competenti, altri da realtà appartenenti al terzo settore. E per suggellare l'incontro il sindaco ha regalato al referente UNHCR, Chiara Cardelotti, la manna di San Nicola. Sì, l'abbiamo fatto nel nome di San Nicola perché ho voluto consegnare al rappresentante dell'Agenzia ONU la manna di San Nicola perché San Nicola è il santo delle imprese audaci e custodisce nella nostra città anche i valori dell'accoglienza, dell'integrazione, della fratellanza, della solidarietà che sono poi i valori che caratterizzano l'Agenzia Internazionale dell'ONU. Ricevere tante persone sul nostro territorio nazionale è complesso e questi tipi di progetti aiutano a strutturare l'integrazione e l'inclusione di queste persone e dare loro sì la possibilità di sognare che i loro obiettivi possano ancora essere raggiunti nonostante sono in esilio, nonostante non sono più nel loro paese. Fermato l'appalto per il dragaggio del porto a Barletta. Avvio ai lavori di manutenzione dei fondali del porto di Barletta. L'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale ha sottoscritto il contratto di appalto con l'ATI composta da Nuova Oceanus Orca SRL e dall'impresa Lavori Marittimi Ancona SRL. L'investimento ammonta 3 milioni di euro e le attività che cominceranno con la bonifica degli ordini bellici 90 giorni saranno sospese in estate in ottemperanza delle disposizioni di tutela ambientale. A metà settembre seguirà il dragaggio ambientale in 240 giorni. L'intera opera avrà un costo complessivo di 6 milioni di euro. L'appalto consiste nella realizzazione di lavori di manutenzione dei fondali nei pressi dell'imboccatura del porto per il ripristino delle quote preesistenti. Si tratta di un dragaggio manutentivo sino al raggiungimento della quota preesistente di 8 metri rispetto al livello del mare in modo da consentire un adeguato e ben maggiore franco di navigazione garantendo quindi l'accesso sicuro in porto anche a navi che raggiungono 10.000 tonnellate. Lo specchio acquio interessato dall'investimento ha una superficie di 9,2 ettari in cui è previsto il dragaggio di un volume di solo sedimento di circa 84.000 metri cubi. Il dragaggio, oltre ad implementare significativamente la sicurezza della navigazione eliminando i punti critici del fondale che possono rappresentare un rischio per le imbarcazioni innalzerà in maniera sostanziale l'appil dello scalo che potrà ospitare un maggior numero di navi anche di ultima generazione aumentando il proprio traffico di merci. Presentato il programma 2023 del Carnevale di Apricena nel Foggiano tra i più belli della Puglia, il popolo dei Coriandoli è anche pronto ad accogliere i turisti. Il popolo dei Coriandoli vi aspetta, siamo felicissimi, ormai i preparativi sono gli ultimi dettagli stiamo riscontrando molto entusiasmo sia dentro che fuori Apricena, stanno chiamando un sacco di persone da fuori siamo tese, agitati ma anche molto molto felici. Il popolo dei Coriandoli è pronto ad accogliere i turisti tra i più belli della Puglia e del Sud Italia torna il Carnevale di Apricena con due date ricche di novità e sorprese. Il 19 e il 26 febbraio si è svolta a Palazzo Dugana la presenza tra gli altri del primo cittadino Antonio Potenza del vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese e del consigliere regionale Paolo Dell'Erba la conferenza stampa di questo attesissimo evento che allietterà la città del Marmo. Vicepresidente, un Carnevale per rivitalizzare un territorio anche da un punto di vista economico? Sì, la Regione Puglia ha contribuito con una dotazione finanziaria importante per sostenere i carnevali in Puglia qui in provincia di Foggia lo facciamo innanzitutto per il Carnevale di Manfredonia che ha una valenza storica importante abbiamo aggiunto il programma di Apricena che ha presentato un programma importante anche per questo carnevale si parte in Puglia dal Carnevale di Putignano che è il Carnevale storico, il primo Carnevale pugliese che apre le feste sui Carnevali e noi sosteniamo questo tipo di iniziative che sono un patrimonio culturale della nostra terra e della nostra Puglia e lo facciamo anche sostenendo i comuni per i rituali del fuoco come può essere San Marco in Lamis oppure in Puglia la Focala di Novoli sono tutta una serie di iniziative che contribuiscono a rendere più attrattivo il nostro territorio L'integrazione passa attraverso i piatti della tradizione, scopriamo l'iniziativa della Scuola Pascoli di Bari Quindi in una padella mettiamo un po' di olio di semi Couscous con le verdure, gimbalaia, una preparazione della cucina creola ricca di sapori intensi e speziati e poi riso alla cantonese, piatto della cucina orientale La cucina come strumento di dialogo, di pace e di valorizzazione delle differenze socio-culturali la pensano così i dirigenti della Scuola Secondaria di Primo Grado Pascoli e dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Bari che hanno organizzato il nuovo progetto didattico Crescendo Impari un percorso di educazione civica che coinvolge l'intero istituto comprensivo dedicato ai temi della conoscenza e della valorizzazione delle differenze socio-culturali, geografiche e di genere indirizzando 109 alunni tra gli 11 e i 12 anni verso una importante riflessione sui temi della convivenza pacifica, del dialogo e della pace Qual è il piatto che ti piace di più? La carbonara Eh vabbè ma non è un piatto diciamo della tradizione barese Eh no, però mi piace la carbonara E come la prepara mamma? Mamma, buono mi ricordo Ma è buona? Sì La prepara bene? Sì però la prepara papà Chef sta preparando un riso alla cantonese Qual è il segreto per un ottimo riso alla cantonese? La passione in cucina Qualche altro segreto? Ma io prima ho detto ai ragazzi che girando il mondo ho scoperto una cosa molto interessante Praticamente la diversità in qualsiasi forma è arricchimento È arricchimento perché comunque dà un valore alla vita della comunità che l'accoglie È tutto, grazie per l'attenzione e un buon proseguimento Rimani connesso Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud Più veloce e con più funzioni Per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo Grazie a tutti